Siamo purtroppo, come avevamo previsto, nella seconda ondata Covid e questo ovviamente è la notizia più importante di oggi. Un lieve calo rispetto ai numeri di ieri. Da 51 si passa a 47 nuovi casi per un dato che rispecchia pienamente l'arrivo di quella che il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, ha definito la seconda ondata di contagi da coronavirus. Quanto emerso dal bollettino epidemiologico del 27 agosto porta a 5.217 il totale dei casi registrati in Puglia, di cui 4.024 guariti, 637 attualmente positivi e 556 deceduti, dato quest'ultimo aggiornato dal paziente morto in provincia di Bari nelle ultime 24 ore. 6 sono i nuovi guariti, salgono da 499 a 537 i quarantenati, da 98 a 100 i ricoverati. Ben 27 dei casi registrati nelle ultime 24 ore in Puglia sono provenienti dalla provincia di Bari. 11 sono contatti stretti di casi già individuati e monitorati, 10 afferescono le attività di triage eseguite nelle aree dedicate dei presidi ospedalieri della ASL, mentre gli altri 6 positivi fanno riferimento a rientri da Sardegna, Croazia, Spagna e Grecia. Totale dei contagi nel Barese è ora di 1745. 10 sono i casi registrati in provincia di Foggia, 3 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale, 3 sono stati individuati con attività di triage, altri 3 sono emersi con attività di screening e 1 è di rientro dalla Spagna. Il dato complessivo del Foggiano sale a 1.337. 3 contatti stretti di casi già accertati e un cittadino albanese di rientro in Puglia sono i 4 nuovi positivi del Brindisino, zona che raggiunge i 702 contagi complessivi. Due casi a testa sono provenienti rispettivamente dalle province di Taranto e Lecce. Nella zona ionica, il cui totale sale a 304, si tratta di contatti stretti di casi già noti, mentre nel Salento i positivi sono un paziente che ha contratto il virus in Sardegna e una persona temporaneamente residente in provincia. Entrambi portano il totale delle cese a 664. A chiude il quadro odierno un residente fuori regione e un bicegliese di rientro dalla Corsica, caso che porta il totale della batta a 423. I 3.161 test odierni portano a 294.426 il totale dei tamponi effettuati in Puglia. Abbiamo quindi dato disposizione di mobilitare esattamente nella stessa organizzazione di qualche mese fa tutti gli ospedali, tutti i dipartimenti di prevenzione. Verranno assunti immediatamente centinaia di infermieri e di operatori sanitari e verranno rinforzati i dipartimenti di prevenzione. Grazie a tutti.